Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, adesso è tempo di pensare alla Champions League, domani giochiamo contro il Maccabi Haifa, c'è stata la conferenza stampa di Max Allegri e di Texcesni pre-gara, l'ho ascoltata tutta, tiriamo fuori qualcosa dai loro discorsi, cerchiamo di ragionare insieme su questa partita di grande importanza perché se vogliamo passare agli ottavi dobbiamo necessariamente vincere entrambe le sfide contro gli israeliani, vincere a Lisbona e poi possiamo anche rilassarci, poi c'è anche da fare risultato magari anche in casa col PSG che non sarebbe male, non dico la vittoria ma un pareggio potrebbe essere importante, il fatto è che ci siamo compromessi, è un po' il cammino e dobbiamo fare gli straordinari, gli straordinari ripeto passano da domani. Prima di iniziare questo video e prima di iniziare a fare un recap sulle parole dette da Tec e da Allegri, vi invito a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella delle notifiche per tutti i contenuti che andrò a postare da qui in avanti. Vi dico già ragazzi che stasera farò una live dove guarderemo insieme l'Inter impegnato contro il Barcellona e il Napoli impegnato con l'Ajax, vedremo un po' insieme queste partite, parleremo di calcio, parleremo del City, parleremo di tutto ciò che volete, sarà una live Q&A insieme dove chiacchieriamo essenzialmente, dove ci godiamo comunque due partite di Coppa molto molto importanti. Vi invito ragazzi inoltre a scaricare l'app di Sussios, questa non è una pubblicità diretta, non ho nulla però ve la consiglio perché poi potete vincere esperienze straordinarie. E adesso con la loro nuova iniziativa del Fan of the Month, ovvero il Fan del Mese, potete partecipare dalle 16 di oggi, pur senza aver token della Juve eccetera, basta entrare nell'app, nella home troverete poi la sezione dove potete partecipare e insomma il Fan del Mese di Ottobre deve praticamente raccontare una storia, deve raccontare come ti sei innamorato della Juventus, in questo caso per noi, dovete scrivere questo breve testo, le storie migliori poi verranno selezionate dallo staff di Sussios, poi i migliori 7-8 verranno messi finalisti, insomma non so quanti sono dipende gioco dopo gioco, potranno essere votati da altri utenti Sussios. Il migliore vince una maglia autografata, ragazzi tentare non nuoce, se avete una bella storia da raccontare sul come siete diventati Juventini, io vi do un consiglio, andate scrivetela e insomma sperate di arrivare tre finalisti e poi di essere quelli più votati. Ma ripeto, con la caccia potete ottenere i Fan Token di Sussios e potete anche ambire al riscatto di esperienze straordinarie, io il riscatto o i crediti per un riscatto di un'esperienza per esempio allo Skybox gratuitamente, ho 15.000 crediti SSU, quindi ci proverò Sussios United, ecco chiamato così. Quindi ragazzi scaricate l'app, vi lascio il link in descrizione, è gratis, iniziate a smanettare perché le cose non piovono dal cielo, bisogna anche un po' di impegnarsi. Ora, torniamo a noi e parliamo della conferenza stampa di Max Allegri, allora io voglio fare un discorso con voi su Tech, sulle parole di Tech, che possono essere in parte anche svalutate, sottovalutate e invece credo che siano di fondamentale importanza. Lui ha parlato di una Juve che col Bologna ha giocato in maniera tranquilla, quindi senza ansia, senza paura, senza strafare, è una Juve che ha giocato veramente in maniera tranquilla e ha portato a casa il risultato e questo già è un primo sintomo di squadra e gruppo che inizia a star bene. Un'altra cosa di cui ha parlato è il concetto di autostima, è una squadra che aveva probabilmente poco autostima di sé, ma adesso anche con i nuovi rientri dagli infortuni, sappiamo benissimo che Chiesa si sta scaldando ed è pronto lì per tornare a molto molto breve, credo a breve termine, non credo che manchi tantissimo. Come ha detto poi Allegri, Chiesa deve allenarsi, entrare un peli o più in condizione, poi verrà organizzato un amichevole dove verrà testato fisicamente per capire appunto se è pronto o meno. Da quell'amichevole poi eventualmente verrà buttato dentro al campo da calcio. Tanti di voi sono chiesti, ma come mai questo infortunio lungo? Beh, sapete bene che intanto il recupero da un infortunio è molto soggettivo, Chiesa ha avuto sempre dei problemi continui di riversamento di sangue nel ginocchio, aveva sempre il ginocchio gonfio dopo ogni allenamento dove cercava di sforzare e quindi sta rientrando piano piano, ma quanto pare questo problema è superato. Infatti l'abbiamo visto in gruppo, l'abbiamo visto anche oggi nell'allenamento di gruppo pre-Juve Maccabi, quindi segnali incoraggianti per un suo ritorno. Ci ha voluto tanto, lo aspettiamo con la speranza che possa essere il Chico Chiesa determinante che ci ha fatto innamorare. Ecco, quindi speriamo bene perché Chiesa serve come il pane, oltretutto potrebbe già iniziare a giocare magari proprio in occasione di Benfica-Juve, in occasione di Juve-PSG e in occasione di Juve-Inter, che per il campionato ragazzi è una cosa importante. Per quanto riguarda le difficoltà avute a inizio stagione, Tec ha detto che c'erano delle difficoltà anche mentali, mancavano tanti giocatori, ha dato questo alibi, però ha anche fatto mia colpa dicendo che in quel periodo che la Juve l'ha fatto male doveva fare molto molto meglio. Invece adesso è molto fiducioso per il futuro, crede nelle rimonte, crede di poter fare anche una buonissima stagione. Se sono convinti loro ragazzi, a me va benissimo, l'importante è che poi sul campo dimostriamo qualcosa. Io ripeto, sono rimasto molto contento dell'atteggiamento mostrato col Bologna. Poi capisco che l'avversario, il livello dell'avversario non sia elevatissimo, tuttavia avere una squadra che per 90 minuti fa quel tipo di partita è già un segnale incoraggiante se guardiamo poi le precedenti partite. Ora, la speranza è dare continuità, perché anche il problema che la Juventus sa magari fa una buona partita come con la Roma, poi non dà continuità. Non dà continuità, oltretutto in quella partita se vogliamo non è una partita neanche paragonabile a quella col Bologna. Perché mentre qua nei 90 minuti siamo stati un pelo intensi, sempre continui, sempre dentro la partita, con la Roma nel secondo tempo abbiamo staccato completamente la spina, cosa che non è avvenuta col Bologna. Per cui l'importante, ripeto, è dare un segno di crescita, un segno di continuità. Per quanto riguarda poi il rientro di giocatori, te che è contento perché il rientro di calciatori stessi alza il livello di autostima. E questa è una cosa che noi diamo sempre prescontata, ragioniamo spesso in maniera molto differente. Invece credo che sì, avere in squadra di nuovo dei rientri importanti possa sicuramente giovare alla motivazione, alla tranquillità anche nel gioco. Perché se giochi con un giocatore che è forte, giochi più tranquillo. Se giochi con un giocatore che è meno forte, ti dà meno tranquillità. Per quanto riguarda col Bologna, dice che la squadra ha un po' ritrovato entusiasmo e vediamo se questo entusiasmo sarà qualcosa di durevole o meno. Per quanto riguarda Max Allegri, l'unica indicazione di natura tattica e di formazione ci arriva da Di Maria. È un Allegri che io ho trovato stranamente tranquillo, compassato, senza mandare frecciatine, senza far nulla, molto focalizzato alla partita e la cosa mi fa estremamente piacere. Lo vedo molto tranquillo. La raccomandazione che ha dato i ragazzi in conferenza stampa è di non avere quell'ansia, quella voglia di straffare per poter portare a casa il risultato prima. Sono 90 minuti. Se la Juve gioca con la tranquillità con cui ha giocato, per esempio, contro il Bologna, è una di quelle partite che la Juventus può portare a casa, non dico comodamente, ma in maniera un po' più agevole. Stessa cosa vale anche per il ritorno. Per quanto riguarda il passaggio del turno, non ha espresso nulla, ha detto che bisogna lavorare partita dopo partita. Bisogna andare a vincere qua in casa, poi fuori casa e poi ragionare anche con Lisbono. Per cui ha anche detto che questo è l'inizio peggiore della sua Champions League perché sarebbe eventualmente la prima volta, in caso di esiti negativi delle partite, in cui viene eliminato ai gironi e non passa agli ottavi di Champions perché lui storicamente è sempre andato agli ottavi di Champions. Per quanto riguarda Chiesa, ve l'ho detto prima, Chiesa prima di rientrare dovrà essere testato in un amichevole interno e poi si vedrà. Poi per quanto riguarda gli altri, vediamo chi gioca perché McKennie secondo me domani rischia di non giocare. Con Di Maria in campo non sappiamo ancora come la Juventus eventualmente si disporrà, se sarà il 4-4-2-4-3-3, quella roba là che abbiamo sempre visto. Rabiot secondo me giocherà, secondo me giocherà anche Paredes. Vediamo quale sarà il terzo, poi lì in mediana, sono curioso di capire. Davanti probabilmente Vlaovic Di Maria, per intenderci. Kostic potrebbe giocare, secondo me è lo stesso. E vediamo un po', vediamo un po' che cosa succederà. Anche in difesa ci saranno eventualmente dei cambi, non lo so, soprattutto nelle corsie esterne. E' tutto da capire. Allegri, l'atto anticipazione di formazione, ci ha detto ben poco in questa conferenza stampa. Vediamo un po', vediamo un po' che cosa succederà. Signori, questo è tutto per questo video. Noi ci vediamo stasera per la live, durante le gare di Champions, durante l'Inter, durante il Napoli. Vediamo un po' di calcio insieme, che credo che sia la cosa più bella anche. Parlare anche di altre squadre, con la tranquillità, con l'oggettività di capire a che livello sono le altre, di capire come dobbiamo migliorare. Tutto ciò serve per ampliare un po' le nostre conoscenze, le nostre vedute. Un abbraccio a voi ragazzi, grazie dell'attenzione sempre, fino alla fine. Forza Juve, scaricatevi l'app di Socios, mi raccomando, e fate questa cosa qua che è gratis. Raccontate all'app come siete diventati gioventini, che se è una bella storia poi verrà votata, e se verrà votata tanto poi riceverete una maglietta autografata. Tutto gratuitamente, basta solo sbattersi un pochettino, per ottenere poi magari grandi cose, e cose inaspettate. In bocca al lupo a voi, e sempre fino alla fine. Forza Juve!